Alessia Abbiamo, lei è la più seria Caterina Vedi coglione a Caterina Che vi tira il cappello E tu come mi chiami bella bambina E se anche laureata e psicologa Attenzione Che cosa ci canterete adesso Alessia, tu che sei la più scarsa Dammi una mano Mettimila qua Non mi scomunicare, non dà per favore Non mi scomunicare Allora, che cosa ci canterai Hai la voce, bella bambina O l'hai persa bene Che cosa pensa Che cosa è emozionata Allora, che cosa ci capirà Di che stagione Non parla di male Che abbiamo anche gli stranieri In fondo che non capiscono Eh, non mi fa bene Oh, signore E che domani è anche domenica Se no non danno gli faccio Quanta Ave Maria Dieci Padre Nostro Grazie a tutti Grazie a tutti Voglio ritornare, voglio ritrarre, a casa proprio non scelto torna, ricordi quella palastina là, quattro o cinque piani fa. La corsa è pensata davvero, Giuliani era stato sincero, nessuno gli dava ragione, e ora c'eriamo in perdone, portare e montare le tende, le sole sono tutte contente, le file per le lavatrici, l'interno carichiamo felici, e io sono scappato in mutande, e tu dormi insieme a tornante. Ogni tre settimane, le figlie per farti sentire, dall'altra gente non si vive, senza tremare, la nave o la tenda non si può aggaccia, speriamo che s'inverno non sto qua, nel nonno che freddo farà. Che facendo qua, profire i rilasci deboli, per rinforzare i muri stabili, puntando all'alzibilità. Avevo una casa carina, con l'alzibilità, con l'alzibilità, con l'alzibilità, con l'alzibilità, con l'alzibilità. Grazie. 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 Grazie.